Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze per incidente due chilometri di coda tra Lastra, Signa e Scandicci. In direzione Mare per traffico intenso, code in uscita a Lastra, rallentamenti tra Firenze, Scandicci e Lastra. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Baldarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Ovest e Firenze Peritola. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Chiudiamo con i treni, resta sospesa la circolazione sulla linea Firenze Bologna e sulla linea Firenze Via Reggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.